Un'operazione di contrasto al lavoro nero della Guardia di Finanza di Pordenone si è conclusa con la scoperta di 23 lavoratori irregolari, 4 denunce e altre tante aziende sospese dall'attività. Le fiamme gialle hanno avviato le indagini tra San Vito e Morsano al tagliamento e individuato, grazie all'impegno di un drone e alla conoscenza del territorio, gli appezzamenti di terreno sui quali era evidente una diffusa presenza di braccianti intenti nella lavorazione agricole tipica di questa stagione, la messa in campo delle barbatelle, la coltivazione dell'uva e la raccolta degli asparagi. Gli interventi hanno permesso di individuare quattro aziende agricole, di cui una con il 100% di lavoratori nero, cioè 7 su 7, ed altre tre con un rapporto irregolari lavoratori di molto superiore al 50%. Per tutte le aziende è stata disposta la sospensione dell'attività, in particolare tra i lavoratori irregolari 4 sono risultati richiedenti asilo e 3 immigrati clandestini. Il loro datore di lavoro, un italiano, è stato anche gli segnalato all'autorità giudiziaria per impiego di mano d'opera priva del permesso di soggiorno. La sanzione per l'impiego di lavoratori in nero, escludendo i riconteggi dei contributi previdenziali ed assicurativi, è pari a 1.800 euro per persona, maggiorati del 20% in caso di assunzione di lavoratori stranieri clandestini o richiedenti asilo.